Adesso proveremo a salire da queste fogliere rossastri Con la speranza di riuscire a trinare la macchina E' interessante come fa lo sporone Ma sul misto gli posso dar giù tranquillamente Eccolo Non ti preoccupare Prea Ma hai ripreso? Si Però hai ripreso di fronte Vabbè ma che te prea Mamma mia non ce l'abbiamo fatta Vabbè ragazzi ci riproveremo Restate qui con noi Ma che male devo fare a piedi secondo te? Ma via un po' di strancio Ma che fa' la macchina Ma che sta anche quest'altra via qua delato Non lo faccio a passo Vai 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 Grazie a tutti.